ciao a tutti oggi prepareremo la torta magica alla nutella il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa per la ricetta ci servirà uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 centimetri abbiamo rivestito il forno il fondo con carta da forno e abbiamo unto i bordi con il nostro staccante per teglie gli ingredienti sono nutella uova granella di nocciole e zucchero al velo diamo il via la ricetta iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla mettiamo le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 10 minuti a velocità 4 nel frattempo sciogliamo a bagnomaria la nutella le uova sono ben montate adesso richiudiamo con il coperchio senza il misurino e dal foro del coperchio con le lame in movimento andremo ad incorporare la nutella azionando il bimbi per due minuti a velocità 3 il composto è pronto trasferiamolo nello stampo inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30 minuti circa la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo una volta che la torta si è raffreddata adesso la decoreremo con della nutella che scioglieremo a bagnomaria con la granella di nocciola ed eventualmente con dello zucchero a velo torta magica alla nutella grazie e alla prossima ricetta ciao ciao